Grazie 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 di solo nell'ingresso e poi dopo va bene grazie arrivederci niente va bene come vedi ti è? mi sto passando guardavo mi sono trovato per due parole ah ma la tieni? no sono un cittadino così guardavo vedo tutte le cose nella vita guardavo un po si non si può no stesso non ho fatto così ho visto che era da solo il signore e ho fatto delle parole di compagnia ma non per... di cortesia ma che cazzo è? allora si può fare le foto? no lei si può fare le foto al quale non può fare le foto va bene? perchè? perchè? lei si può fare la pastura? si allora lei le foto va a casa io le foto sono sulla strada pubblica si ho capito ma lei qua questa è propietà mia non la fare propietà assoluta no questa è mia propietà va bene non lo fare va bene? va bene va bene non lo fare ora faccio ok va bene però sono deciso che questo la preferirei tu non ti preoccupare questo è mia propietà va bene tu le foto non ce lo fai va bene va bene che? ok mi ha fatto è capitato un capo un capo romoso e era un nuovo lavoro e vabbè vado di sennò si arrabbia vabbè va bene Grazie a tutti. Quindi devo controvandarmi i carabinieri qua, che c'è il capuccione che mi stava minacciando, il proprietario, che non posso far fuoco, che cazzo sono, che cazzo voglio, eccetera, eccetera, e ora sono andata qua davanti alla mia macchina a aspettarmi. Ok, se mi senti tra due minuti, mi mandi i carabinieri. Ok, grazie, ciao. Grazie a tutti. Grazie a tutti.